Spaccio a tutte le ore del giorno a denunciarlo sono i cittadini che risiedono nell'area di via Guadagnoli ad Arezzo. In questo momento ci troviamo in un parco pubblico, qui adiacente c'è un'area per i cani e appunto chi ha un amico a quattro zampe nota questo spaccio a cielo aperto. In particolar modo ci viene segnalata proprio questa panchina come punto di riferimento per chi appunto attende i propri clienti. Io ho notato senza voler essere rassista dei personaggi di colore che seduti in una panchina a prescindere dalle condizioni atmosferiche attendono con un cellulare in mano il cliente di turno che puntualmente arriva. Ripeto, è una cosa così palese, così evidente, che è strano che nessuno ci metta gli occhi. È qualcosa che proprio fa anche male perché si vedono personaggi di tutta l'età. La zona è stata ripulita, le siringhe rimosse, ma i cittadini continuano a segnalare lo spaccio. Gente che si passa le cose, si passa le dosi, ho visto tutto, chi si le inietta, qualsiasi cosa. L'ho anche denunciato. Ah ok, a chi l'ha denunciato? Ai vigili. Pochi passi e dall'area di via Guadagnoli ci troviamo al parco pubblico intitolato a Fabrizio De Andrè ed effettivamente anche qui i cittadini ci segnalano di soggetti che appunto si fermano nelle panchine e attendono che gli acquirenti arrivino. Purtroppo le zone sono tante dove si vedono queste cose. Beh, Campomarte è stata un po' frequentata via Concini, insomma ci sono dei luoghi abbastanza interessati. La zona rossa magari in questo non aiuta forse? Non lo so, non essendoci passaggio ognuno è libero di fare quello che vuole se non è visto da nessuno, diciamo così. Nel nostro giro incontriamo anche due tossicodipendenti che lasciano questa area della città per raggiungere Campo di Marte.